ciao da max benvenuti al canale intanto e mi raccomando iscrivetevi e se vi piacciono i telefoni soprattutto vintage oggi presentiamo nokia 21 10i da non confondere con il 21 10 innanzitutto le forme dal punto di vista esterno sono le medesime però in realtà il 21 10i che ho io è venuto dopo un anno un anno e mezzo dopo è lo stesso telefono si differenzia per l'antenna lo riconoscete da questa antenna qua che leggermente più alta sempre ovviamente antenna telescopica questo è un telefono molto importante di fascia molto alta di nokia che è uscito all'intorno del 1995 96 ed era un telefono che ha sdoganato nokia dalle reti analogiche mi spiego i telefoni all'inizio erano basati sulle reti analogiche che erano in voga all'epoca questo è stato costruito ed era il primo sostanzialmente che sfruttava le nuove reti digitali da eteri quindi non era adattato ma era costruito allo scopo e quando si costruiscono dispositivi elettronici solo per quell'utilizzo il dispositivo elettronico funziona meglio ma la funzione che lo fa ricordare a tutti e molti però non lo sanno era che il primo telefono ad aver utilizzato il motivetto di nokia che ormai sentiamo da anni e anni e anni non è finlandese l'artista ma è spagnolo è un compositore spagnolo non mi ricordo il nome comunque l'hanno preso da lì e probabilmente la composizione più ascoltata di sempre perché quanti hanno sentito il motivetto di nokia classico è abbastanza pesantuccio e poi vedremo le specifiche tecniche più in dettaglio sentirlo in mano devo dire che dà la sensazione di robustezza e di qualità eccolo il nokia 21 10 i confrontiamolo subito va non lasciamolo da solo ma avviciniamolo a iphone moderno vediamo la differenza in pianta che non è poi così ampia rispetto al maxi iphone mentre se guardiamo lo spessore in questo caso la differenza come sempre è ben visibile lo confrontiamo anche con un bel android piccolino piccolino proprio per far vedere come le differenze indubbiamente ci sono proviamo anche l'ultimo telefono che abbiamo recensito il 2600 c vediamo che anche qua le differenze in termini di dimensioni sono ampie allora questo telefono qua perché dicevamo che è stato una pietra migliare della telefonia non solo di nokia in generale perché è stato il primo oltre ad avere come vi ho raccontato la suoneria classica di nokia che poi accompagnerà tutti i telefoni della casa finlandese uno schermo di generose dimensioni schermo monocromatico scritte nere sfondo verdino ma è oltre ad essere uno schermo facilmente usufruibile perché le dimensioni erano maggiore rispetto alla media aveva anche i menù che poi ricordano ricorderanno i menù che arriveranno in seguito è stato il primo insomma che ha lanciato quella serie di menù quella caratteristica di facilità di utilizzo che avevano in occhia che poi la casa finlandese ha portato avanti per i telefoni successivi per molti anni era un telefono dedicato sostanzialmente al business visto il costo costava più di 1200 euro quindi 1200 lire scusatemi quindi è ovvio che era indirizzato una clientela molto esigente da questo punto di vista è un gsm monoband ovviamente 900 non ha bluetooth o gps wireless ma questo è anche inutile sottolinearlo la sim card come era all'epoca ricordiamolo aveva una capacità di una quarantina di contatti però il vantaggio che il telefono le poteva contenere con la poca memoria che aveva però i contatti consumano anche poco poteva contenere ben 120 contatti in più la tastiera ancora adesso è direi perfetta perché è spaziata ben cliccabile una delle migliori in assoluto ricezione qualità chiamata erano al top della categoria come abbiamo visto l'antenna estraibile e cosa non da poco l'antenna non si è rotta perché come sempre vi dico che era il difetto principale dei telefoni di allora andiamo ad aprirlo adesso la batteria ovviamente è removibile qui vediamo che non c'è scritto 2110i ma il type nhe4nx dimostra che è proprio lì il telefono è made in finland mentre cosa caratteristica non capita poi molto spesso la batteria che è un 550 mAh batteria che non è agli ioni di litio ricordiamolo sono quelle precedenti è costruita nella Czech Republic adesso non mi ricordo se c'era già stata la divisione tra Repubblica Ceca stavo dicendo Rep.Cec e Slovacchia questo scrivetelo se lo sapete all'epoca garantiva una ottima autonomia proprio per gli utilizzi che vi dicevo qui c'è il pulsante ovviamente di accensione dicevamo la capacità della memoria è veramente bassissima una manciata di kilobyte devo dire che dà sempre sempre soddisfazione alla Nokia in termini di materiali ineccepibili era brandizzato Omnitel quella che poi diventerà sostanzialmente la Vodafone attuale il LED di notifiche può far sorridere oggi ma era veramente fondamentale io compravo telefoni ne compravo uno a differenza dell'altro anche in base a quello perché lo tenevo magari a suoneria spenta vedevo da lontano sulla scrivania la lucetta che si illuminava e quindi capivo che mi arrivava la notifica importantissimo e i fori per il lineard cioè per tenerlo o al polso o tramite laccio al collo mai fatto perché tenere una massa così pesante al polso o al collo è assolutamente improponibile e ha vinto anche per due anni consecutivi il premio Watt Cell Phone che era un premio molto in voga e ambito all'epoca per due anni consecutivi non è male vuol dire che la sostanza c'era ecco personalmente quando mi è arrivato mi è arrivato circa un po' di anni fa mi è ricordato subito uno dei primi communicator della Nokia quelli che si aprivano così infatti ho tentato di aprirlo ho detto sta a vedere che si siano sbagliati a inviarlo invece era classico 2110 comunque devo dire dopo tanti anni è un po' pesante e quindi a portarlo tutto il giorno secondo me si soffre però la sostanza c'è un gran bel telefono dedicato molto al business ciao da Max e dal Nokia alla prossima ciao 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 ciao